Sacri tuoi figli, suavi si prostrano a te. Nei giorni a te, sacri tuoi figli, suavi si prostrano a te. Al supplicante popolo, sorride dolce pia, volgi lo sguardo vertile a nostre animi affinite. Al supplicante popolo, sorride dolce pia, volgi lo sguardo vertile a nostre animi affinite. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è contento. Tu sei il prezzo del Cattavano, e prevedete tutto il Vesco. Santa Maria, prego per noi peccatori. Ave 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 Maria, prego per noi peccatori. Grandioso contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta, Padre nostro. Signore, prego per noi peccatori. Ave Maria, 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 prego per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Santa Maria, Piazza di Dio, prega per noi più tuoi, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Santa Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Santa Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Santa Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Santa Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Santa Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Santa Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, Piazza di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo sello Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo sello Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, regno il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cominci più così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il tuo segno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo segno, Gesù. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. Salve Regina, salve Regina. A te ricorriamo, e sui figli di Eva, a te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. avvocata nostra, avvocata nostra, colgi a noi gli occhi tuoi, mostraci dopo quest'esilio, il frutto del tuo segno, Gesù. Salve Regina, madre di misericordia, o clementi, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina. Salve Regina. Salve Regina. e dire via capitante la bellezza e che oggi ci accoglie a tutti voi che siete venuti qui, grazie, grazie, facciamo un applauso grande ai vicini urbani, devo dire, che sono bravissimi, oggi facciamo fare molto straordinario, grazie, grazie e grazie anche ai portatori che sono a metà dell'opera, adesso qualche minuto e iniziamo subito la celebrazione della Santa Messa. Grazie a tutti 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 santuari ogni anno con santi altrui. In questo caso egli fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte, invece ora una volta sola nella pienezza dei tempi egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso e come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti apparirà una seconda volta senza alcuna relazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acquatura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza perché degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio. Grazie a Dio. Andate e fate discepoli in tutti i popoli dice il Signore. Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siete rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrano davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, notando Dio. Parola del Signore. Parola del Signore. Seduti per chi si può sedere. Avrò pietà soprattutto di chi sta in piedi. Non vi preoccupate. oggi noi celebriamo la festa della ascensione di Gesù al cielo. Gesù sali al cielo. E sembra questa una festa dell'addio. Ho anche la dimostrazione che Gesù non è mai esistito. dove sta la reliquia del corpo di Gesù? Dove sta il corpo di Gesù? Sono da qualche parte il corpo di Gesù? Lasciate stare il tabernacolo, l'eucanese. Oggi sta il corpo di Gesù? Avete delle reliquie della carne di Gesù, delle ossa di Gesù voi a casa vostra? O in qualche chiesa? Non c'è nessuna reliquia della carne o delle ossa? Al massimo abbiamo qualche reliquia della croce, la turica, qualche cosina? Ecco, sicuramente. E invece di Gesù non abbiamo niente. Allora, sembra che Gesù se ne sia andato, basta, muovo e vedetevelo a voi. Ehi, chi si è visto è visto. Io sono venuto una volta sulla terra, mi avete messo pure in croce. E ma, 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 sapete che faccio? Mo me ne vado. Sono risolto? Beh, mo prendo e me ne vado. Eeeh, mettetevelo a voi, sbrattetevelo a voi, anche perché in mezzo a voi uomini, donne, mamma mia, che teste dure che siamo. Oppure qualcuno può dire anche, vabbè, è tutta una chiacchiera il Vangelo, è tutta un'invenzione il Vangelo. E Gesù se ne è andato, è un'ascensione, è una dimostrazione di come siamo stati presi in giro tutti quanti. Da duemila anni la più grande impostura della storia è il cristianesimo, in modo particolare la chiesa, la chiesa cattolica, quella guidata dal Papa. Ecco, la grande impostura. Questo potrebbe essere la conclusione di questa festa, diciamo così. Ah, altro che festa, sarebbe un funerale. Invece Gesù, che cosa succede? Più che Gesù, se siamo sempre attenti nel Vangelo, sta scritto che quando Gesù sale al cielo, i discepoli erano pieni di gioia. Ma per quale motivo? Non perché succede così, no? Quando i genitori se ne vanno da casa, i figli sono contenti. Quando il capo squadra o il capo ufficio se ne va dall'ufficio o dall'ambiente dove si lavora, i dipendenti sono contenti. Il prezzo, quando se ne va il prezzo, quando se ne va il professore, gli alunni che cosa combinano? Stare per dire. Quando se ne va il parroco, ma lasciamo stare questa cosa, lasciamo stare questa cosa che sembra brutta dirla così. Va bene, va bene. Allora, invece, che cosa succede? Che i discepoli erano contenti, erano, viviamolo nella gioia. Per quale motivo? Perché Gesù cambia la sua modalità di relazione con i suoi discepoli. Mentre quando stava con i dodici, che poi diventano undici, si relaziona con pochissime persone. Anche chi lo conosce, chi lo vede, poche persone lo ascoltano. Invece con l'ascensione che cosa succede? Che Gesù si può relazionare con tutto il mondo. La sua potenza si espande in tutto il mondo. Allora, sembra che Dio se ne vada, ma in realtà con l'ascensione Gesù è più vicino a noi di quando viveva in carne e ossa in Israele. Perché adesso lui dal cielo è vicino. Perché il cielo, per noi cristiani, non significa lontano. No, il cielo è sulla terra. Perché lui, Gesù, ha trasformato la terra nel cielo. E allora altro che festa dell'addio è la festa della vicinanza. E com'è possibile allora dimostrare che Gesù è realmente esistente. Chi sono i testimoni della risurrezione di Gesù? Noi cristiani. Noi testimoniamo che Gesù non solo è morto, ma crucifisso, risorto e non muore più. È il vivente. Non muore più. Noi siamo. Se noi siamo capaci di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato. Se noi siamo capaci di costruire un mondo migliore. Se noi siamo capaci di toglierci i difetti che abbiamo addosso. Se siamo capaci di fare dei miracoli di carità, di amore. Di dare senza avere un contraccambio. Di costruire un mondo migliore, una società migliore. Imperniata sui valori del Vangelo. E quindi sul valore del bene, sul valore del rispetto, il valore della giustizia, il valore della famiglia, il valore dell'accoglienza della vita, il valore del lavoro, il valore della giustizia sociale, della solidarietà, del rispetto degli altri, delle cose, dell'ambiente. Per cui si ama così come Gesù ci ha amato. E questa è la testimonianza che Gesù non è morto in vano, è qui con noi. Ma noi rendiamo credibile il Vangelo, noi lo rendiamo credibile. Noi siamo la testimonianza che Gesù è risorto, perché lui ci dona la forza. Tante volte non lo sperimentiamo, quando diciamo non è forza la mia. E chi me l'ha data la forza? La preghiera. Chi me l'ha data la forza? Il Signore. E' Lui la nostra forza, e' Lui il nostro aiuto. Allora con Gesù è possibile costruire persone nuove, che siamo noi. E' possibile che la famiglia rimanga salda. E' possibile addirittura che la nostra città diventi più bella. Diventi più pulita. Non solo perché si fa la differenziata o il porta a porta. Ma perché? Diventa pulita nel cuore, diventa pulita nelle labbra, ma soprattutto nella mente. Per cui è inconcepibile mancare di rispetto agli altri, alle cose degli altri. E' inconcepibile fare dei dispetti, è inconcepibile pulciare le macchine, è inconcepibile rubare, è inconcepibile spacciare la droga, oppure essere infedeli al matrimonio. E' impossibile, è impossibile, è impossibile. E allora questo, se noi realizziamo un mondo nuovo, un mondo nuovo, questo deriva dal fatto che noi siamo cristiani e che dentro di noi abita Gesù che ci accompagna. E poi abbiamo un aiuto potentissimo, Maria, la Madonna dei Martiri, che noi invochiamo come nostra patrona. La fiera Procella, di cui cantiamo, non è la fiera del 8 settembre. Eh? Eh, la fiera. Quando viene la fiera, e che devono andare le bancarelle, avete certo eh? Non è tutto. Eh, adesso, strutturmente, che non possiamo passare, avere l'illuminare, ma quando spreco, quando spreco, però, poco a poco fare un arco di meno, ma che festa brutta hanno fatto. E se poi i fuochi, invece di farne tre, ne facciano uno e mezzo, ma c'è brutta cosa. Eh? Come siamo noi, come siamo noi. Così siamo noi. E poi, e poi, invece, la Madonna, non è solamente la Madonna dell'8 settembre, la Madonna è sempre nostra madre e ci accompagna. Poi la Madonna dei Martiri, che significa? La Madonna dei Testimoni, cioè la Madonna di coloro che testimoniano la fede, di coloro che dicono che Gesù è quello che è salito in cielo, ma dal cielo, il cielo è sulla terra perché Gesù è accanto a noi. E lui ci dà la forza per essere testimoni, fino al martirio, fino ad essere presi in giro, per amore della fede, prima a dire, prima anche di essere riproverati. Dici, beh, quante volte sei sposato? Una volta, uh, solo una volta sei sposato. Eh, 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 oppure, ma chi te lo fa fare di aiutare gli altri, di aiutare gli anziani? Che te lo fa fare di aiutare i poveri? Pensa a te, ora devi toglierti, pensa a te, fai una vacanza, pensa a te, pensa a te, pensa a te. E questo, noi dobbiamo sempre pensare a noi, e agli altri, noi dobbiamo pensare. Ma non è da pensare che ci dobbiamo mettere la giacchetta uno dell'altro, no, questo no. E se qualche volta mi devo mettere la giacchetta dell'altro, non è per giudicare, ma forse è per essere più vicino, per essere solidale. E così, così sì, è più bello, è così più bello. E sapete tutto da che cosa parte? Da un semplice saluto. Non so se vi è mai capitato qualcuno, quando passate per la strada, soprattutto i ragazzi più piccoli, i ragazzi più piccoli, adesso non li educhiamo più, non solo le preghiere, neanche a salutare. Adesso dovrebbero essere i grandi a salutare i piccoli. E poi, che cosa succede? Che poi quando ti incontrano, dicono, eh, tu non mi hai salutato. Ma forse, quando ero piccolo, mia madre mi diceva, devi salutare i più grandi. Adesso che sono grande, devo salutare i più piccoli. Quando arriva mai il nostro momento, mai. E allora forse dobbiamo incominciare da un saluto, da un sorriso, da una stretta di mano, queste piccole cose, stupidaggini. Ma di qua passa la fede, di qua passa la fede. Altrimenti siamo, diventiamo rattrappiti, rattrappiti. Chiediamo alla Madonna, alla Madonna dei martiri, di benedire, di sorreggere, di guidare le nostre casse, soprattutto di essere vicina a tanti ammalati, tante persone che soffrono, a causa della mancanza del lavoro, la mancanza della salute, per la solitudine, tante volte per l'abbandono. Forse si vivono momenti anche di disperazione, momenti veramente particolarmente tristi. Chiediamo alla Madonna, ecco. Così come diciamo nel campo, volgi il tuo sguardo vergine su di noi. Non fa niente. Se siamo buoni o siamo cattivi, se siamo belli, se siamo santi, se siamo brutti, se abbiamo i soldi o non abbiamo i soldi. Alla Madonna non conta questo. Lei accoglie sempre ogni persona, ogni persona che a lei si rivolge. Perché la Madonna è buona. La Madonna dice, noi siamo morelli, ma lei è buona. Accoglie sempre le nostre preghiere. E allora, mentre la invochiamo, e la guardiamo sorridente, e col suo sorriso ci dà tanta pace nel cuore, e chiediamo veramente che cammini per le nostre strade e ci doni la sua pace e la sua misericordia. Credo in un solo Dio, Padre Bonipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre e prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, Generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui, tutte le cose sono state create. Per le uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel cielo della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crucifisso per noi, sotto polso Pilato, morì fu sepporto, e il terzo giovane, suscitato, secondo le scritture, e salita dal cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i divi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio, gli ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo, per il perdono dei peccati, aspetta la risurrezione dei morti, e la vita del mondo, che verrà, Amen. Rivolgiamo un'anima nella nostra preghiera, per l'intercessione di Maria, al Signore, e insieme diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la comunità cristiana, memore del mandato di Gesù, di predicare il Vangelo ad ogni creatura, non tema di creare nuovi spazi di evangelizzazione, come chiesa in uscita, e non rinunci mai, ad accompagnare tutti, preferendo, chi è rimasto ai bordi della strada, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché gli scrittori, i giornalisti, i registi, e gli operatori, della comunicazione, nel raccontare il mondo, che li circonda, siano sempre attenti, e rispettosi, della verità, e della dignità, di ogni persona, e incoraggino, a cercare ciò che è bello, buono, giusto e santo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché le nostre conversazioni quotidiane, vissute di persona, o in rete, si trasformano in strumenti efficaci, per guarire le memorie, superare le incomprensioni, e ricostruire l'armonia, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la nostra assemblea liturgica, illuminata dallo Spirito Santo, non tema di affrontare, le nuove sfide del nostro tempo, e guardi, con fiducia al futuro, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo, perché il Signore, per l'intercessione di Maria, ha susciti, nella Chiesa, tante vocazioni, tanti giovani, possono seguire Gesù, nella via del sacerdozio, perché abbiamo bisogno, di tanti e santi, sacerdoti, ma anche di tante persone, che si consacrino a Lui, scoprendo questa via sublime di gioia, e di amore, è veramente purissimo, o se ne dire, finissimo. E poi, preghiamo anche per, tutte le vostre intenzioni, in questo momento, facciamo un secondo di silenzio, a fidi, per l'intercessione di Maria, al Signore, le sue preghiere, le sue intenzioni, perché veramente il Signore, ascolti i nostri desideri, ed esavisca, tutto quello che abbiamo, nel cuore, che in questo momento, chiediamo confide. Tutto questo Padre, noi te lo chiediamo, per Cristo, nostro Signore. Amore. Una notte di sudore, sulla barca, in mezzo al mare, e mentre il cielo, si impianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce, che ti chiama, un altro mare, si mostrerà, e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai, offri la vita tua, come Maria, ai piedi della croce, e sarai servo, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime, speravi, che il seme spazzo davanti a te, cadesse sulla buona terra, ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggio ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai, offri la vita tua, come Maria, ai piedi della croce, e sarai servo, di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio mostro sacrificio, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente, Signore, il cielo è un magno di questo sacrificio, a loro di voi è il suo uomo, perché il mio mostro è il suo saluto, e il mio mostro è il suo saluto, in piedi, accogli il Signore il sacrificio, che ti offriamo, nella mirabile ascensione del tuo figlio, e per questo santo scambio di doni, fa che il nostro spirito, si innalzi alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' veramente cosa vuole giusta, che tutte le creature in cielo e sulla terra, si uniscano nella tua lode, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, fra il coro festoso degli Angeli, Mediatore tra Dio e due uomini, Giudice del mondo, del Signore dell'Universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella Ligora Eterna, per darci la serena fiducia, che dove Lui, Capo e Primogenito, saremo anche noi, Suoi membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'Assemblea degli Angeli e dei Santi, canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo è il Signore, Dio dell'Universo, Dio dell'Universo, i Cieli e la Terra, sono pieni della gloria. O Santa, O Santa, O Santa, nell'alto dei Cieli, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ma santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatevi tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetele tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede, celebrando il memoriale della morte e l'esurrezione del tuo figlio, ti offriamo Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammesso in la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Renni la perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di ne tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, San Bernardino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e accompagnati dalla presenza materna di Maria, Regina dei Martiri e nostra Madre, insieme diciamo Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato in tuo nome per il Granio Regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Naci oggi il nostro Padre quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la viata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi Apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che viveregni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Con grande gioia scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati dal mondo abbi pietà di voi. Agnello di Dio che togli i peccati dal mondo abbi pietà di voi. Agnello di Dio che togli i peccati dal mondo scambiatevi un segno di pace. Beati vi invitati alla cena del Signore ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo non posso dire che non sono degno di partecipare alla tua mente ma di soltanto una parola e io sarò salvato. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. Oh Signore E' il tuo pane Gesù che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza, il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. Sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. E il tuo vino Gesù che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere in freschezza. E il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. Sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. E il tuo corpo Gesù che ci fa chiesa, fratelli sulle strade della vita, sei l'ancore, toni e luce all'amicizia. Dal tuo cuore nasce il giovane il perdono, il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. Sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. E il tuo sangue Gesù è il segno eterno, dell'unico linguaggio dell'amore. Sai donarsi come te richiede fede, nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza. Sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Signore è il tuo dono Gesù la vera forte, del gesto coraggioso di chi annuncia. Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco la rivela la missione. Sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Signore. Le mani alzate verso te, Signore, per offerti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, tu hai bene nel profondo, guardaci tu, Signore, siamo tuoi. Piccoli siamo davanti a te, come riuscendi siamo la tua vita, semplice pur innanzi a te. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo, le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi. Se mia vita è verità, se ci terrai la mano nella mano, il cuore più non temerà. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo, le mani alzate verso te, Signore. Gioia in me nel profondo, formaci tu, Signore, siamo tuoi. Noi nulla siamo senza te, fragili tracci uniti alla tua vita, fecoli sopponiti a te. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo, le mani alzate verso te, Signore. Gioia in me nel profondo. Gioia in me nel profondo. preghiamo o Dio di potente misericordioso che alla tua chiesa te leclina sulla terra pregostare i divini misteri suscita in noi il desiderio della patria eterna dove hai inanzato l'uomo accanto a te nella gloria per Cristo nostro Signore amén al termine di questa celebrazione voglio rivolgere un grande ringraziamento a tutta questa bella strada di via Capitan Carabellese tutto questo quartiere che è un po' la parte un po' più come dire ma periferica no quella che sta più vicino al cuore del parroco ecco perché siete un pochino più lontani come territorio però io vi penso sempre spero tanto che anche voi non solo ci pensiate ma possiate stare sempre in comunione con noi e venire a trovarci so che molti frequentano San Pio X e anche di questo sono contento ma perché ve ne andate da San Bernardino no perché mi rendo conto che è più vicino però l'importante è frequentare la messa la domenica essere vicino alla parrocchia poi volerci bene sostenerci reciprocamente e poi ovviamente voi sapete che il vostro punto di riferimento è sempre San Bernardino grazie grazie a tutti grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione e l'accoglienza di questa di questa bella processione ma soprattutto ecco dell'icona della Madonna di Martiri ringrazio soprattutto la famiglia Valente ringrazio tutti quanti qui in questa strada grazie a tutti un applauso a tutta via capitolare e adesso noi dopo la benedizione noi proseguiamo il nostro itinerario vi invito ad essere così come siete numerosi adesso a venire a seguire la processione che accompagnerà l'icona per alcune strade ancora della parrocchia e poi c'è il rientro in chiesa vi ricordo domani la messa ovviamente siamo stati già questa sera abbiamo già celebrato la messa della domenica però chi vuole può anche venire domani perché è brutto noi peccati dobbiamo fare la messa non è peccato ci mancherebbe vi ricordo solamente domani mattina alle 11 il rosario a seguire la messa e poi domani è la domenica della supplica a fine messa alle 11 e mezza ci sarà la supplica in onore della Madonna del Rosario domani sera alle 8 e mezza in parrocchia c'è un concerto mariano a cui io vi invito a essere presenti a partecipare a fare festa intorno a Maria mentre poi lunedì ci sarà di nuovo una piccola fiaccolata con la Madonna partiremo sempre partiremo alle ore 6 però dalla chiesa e alle 7 celebreremo la santa messa in via Galetti proprio vicinissimo alla chiesa via Galetti sapete dov'è? ma io vi devo insegnare le storie di Molfetti non si capita ne so più io le storie di nuovo me le so scordate ma le storie di Molfetti mi si mi ricordo sapete perché? perché io dico però Molfetti ce l'ho nel cuore ma soprattutto la parrocchia mia ce l'ho nel cuore e allora è così allora quando uno ce l'ha nel cuore grazie grazie quando uno ce l'ha nel cuore si ricorda si ricorda le strade e le persone dei nuovi ma soprattutto la cosa più bella è che stiamo nel cuore di Maria nel cuore della Madonna passiamo un grande applauso alla Madonna di Martini che ci sta lavorando questi giorni della sua presenza in mezzo a noi in passione che sapete dell'anniversario dello scampato pericolo dell'11 maggio 1560 quando la Madonna salvò la città di Molfetta dal terremoto e spero tanto che la Madonna salvi ancora oggi Molfetta non tanto dai terremoti fisici anche soprattutto ma anche da altri terremoti che rimote soprattutto delle famiglie della moralità e dell'onestà ecco che Maria veramente ci salvi e ci guidi sempre il Signore sia con voi e per intercessione della Vergine Santa vi benedica Tio Enipotente Padre e Figlio e Spirito Santo nel nome di Gesù e di Maria andiamo in pace e andiamo grazie a Dio oh Maria quanto sei bella sei la gioia e sei l'amore mi hai rapito questo cuore notte e giorno io penso a te mai rapito questo cuore notte e giorno tu sei benedetta fra le donne tu sei benedetta fra le donne Santa Maria madre di Dio prega per noi i pecatori e che sono le loro e che sono le loro amore ave Maria vina di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno e che sono le loro Santa Maria madre di Dio prega per noi i pecatori e che sono le loro 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 ave Maria vina di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi i pecatori e che sono le loro 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 ave Maria vina di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi Maria prega per noi Maria prega 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 per noi Maria Grazie per la visione 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 della Vergine Santa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, Amen. Nel nome di Gesù e di Maria andate in pace, e viva Maria! Maria andate in pace, e viva Maria andate in pace, e viva Maria andate in pace, e viva Maria Maria andate in pace, e viva Maria andate in pace, e viva Maria andate in pace, e viva Maria Maria andate in pace, e viva Maria andate in pace, e viva Maria andate in pace, e viva Maria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.